Seracusa è insofferente al controllo di polizia, minaccia gli agenti, denunciato. Alle 4 di questa notte all'interno del cortile antistante del pronto soccorso dell'ospedale Umberto I, gli agenti delle volanti hanno preceduto al controllo di un'autovettura con a bordo due soggetti già conosciuti alle forze di polizia. Uno degli occupanti dell'autovettura si mostrava insofferente al controllo tanto da oltraggiare i poliziotto e minacciarli. L'uomo quarantenne seracusano è stato denunciato per oltraggio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Nella serata di ieri agente delle volanti hanno eseguito un'ordinanza di carcerazione emessa dal tribunale di Seracusa in aggravamento della precedente misura degli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 42 anni. L'ordinanza di aggravamento si è resa necessaria a seguito della ripetuta evasione compiuta dall'uomo che si trovava agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. Dopo le incombenze, diritto è stato accompagnato nel carcere di Cavadonna. A Priolo, nella giornata di ieri, gli agenti del commissariato, udendo delle grida provenienti da una strada vicina agli uffici di polizia, sono intervenuti interrompendo un litigio tra un uomo di 46 anni e la sua compagna, una donna di 44 anni. Quest'ultima portata in commissariato ha raccontato ai poliziotto di essere vittima di reiterati maltrattamenti da parte del compagno che per tali motivi è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia e posto agli arresti domiciliari.